Per mio fratello Napoli, 28 novembre 1943 Carissimo, parto in questi giorni per un'impresa di esito incerto. Raggiungere gruppi di rifugiati nei dintorni di Roma, portare loro armi e istruzioni. Ti lascio questa lettera per salutarti nel caso che non dovessi tornare e per spiegarti lo stato d'animo in cui affronto questa missione. I casi particolari che l'hanno preceduta sono di un certo interesse biografico, ma sono troppo complicati da riferire. Qualcuno degli amici che da questa parte vi potrà raccontare come nella mia fuga da Roma sia arrivato nei territori controllati da Badoglio, come abbia passato avverindisi dieci pessimi giorni presso il Comando Supremo e come dopo essermi convinto che nulla era cambiato fra i militari, si è riuscito con una nuova fuga a raggiungere Napoli. Qui mi è stato facile fra gli amici politici e i reduci dell'emigrazione trovare un ambiente congeniale e ho contribuito a costituire un centro italiano di propaganda che potrebbe avere una funzione utile e che mi ha riportato provvisoriamente alle mie attività normali e a un ritmo di vita pacifico. Ma in tutto questo periodo è rimasta in sospeso la necessità di partecipare più da vicino a un ordine di cose che non giustifica i comodi metodi della guerra psicologica. E l'attuale irrigidirsi della situazione militare, la prospettiva che la miseria in cui vive la maggior parte degli italiani debba ancora peggiorare, hanno reso più urgente la decisione. Così, dopo il fallimento, per ragioni indipendenti dalla nostra volontà, di altri progetti più ambiziosi ma non irragionevoli, ho accettato di organizzare una spedizione con un gruppo di amici. Bene, scusate, l'ultima volta avevamo visto un Cia Cambria che dopo l'armistizio con l'esercito italiano allo sbando cercava solo di tornare a casa a piedi. E un po' per analogia, un po' per contrasto, ho pensato a un altro giovane che vive quegli stessi giorni, solo che contrariamente a Angia, questo personaggio esiste davvero. E anziché tornarsene a casa, prende contatto con la Resistenza. Io sono Andrea, oggi non l'ho ancora detto, appartengo al Circolo dei narratori di Bergamo e condivido il sabato pomeriggio testi letterari. Questa che stiamo leggendo è l'ultima lettera di Jaime Pintor, antifascista, lettera datata 28 novembre, quindi circa un mese dopo la vicenda che abbiamo letto la settimana scorsa, nonché giorno stesso in cui voi potrete ascoltare questo video. Tra tre giorni per voi sarà l'anniversario della morte di Jaime, che prima di questa missione scrive al fratello, appunto preparandosi a un'impresa che aveva poche probabilità di riuscire. E' la conclusione naturale di quest'ultima avventura, ma soprattutto il punto d'arrivo di un'esperienza che coinvolge tutta la nostra giovinezza. In realtà la guerra, ultima fase del fascismo triunfante, ha agito su di noi più profondamente di quanto risulti a prima vista. La guerra ha distolto materialmente gli uomini dalle loro abitudini, li ha costretti a prendere atto con le mani e con gli occhi dei pericoli che minacciano i presupposti di ogni vita individuale e li ha persuasi che non c'è più possibilità di salvezza nella neutralità e nell'isolamento. Nei più deboli, questa violenza ha agito come una rottura degli schemi esteriori in cui vivevano. Sarà la generazione perduta che ha visto infrante le proprie carriere. Nei più forti ha portato una massa di materiali grezzi, di nuovi dati su cui crescerà la nuova esperienza. Senza la guerra io sarei rimasto un intellettuale con interessi prevalentemente letterari. Avrei discusso i problemi dell'ordine politico, ma soprattutto avrei cercato nella storia dell'uomo solo le ragioni di un profondo interesse e l'incontro con una ragazza o un impulso qualunque alla fantasia avrebbero contato per me più di ogni partito o dottrina. Altri amici meglio disposti a sentire immediatamente il fatto politico si erano dedicati da anni alla lotta contro il fascismo, pur sentendomi sempre più vicino a loro. Non so se mi sarei deciso a impegnarmi totalmente su quella strada. C'era in me un fondo troppo forte di gusti individuali, di indifferenza e di spirito critico per sacrificare tutto questo a una fede collettiva. Soltanto la guerra ha risolto la situazione, travolgendo certi ostacoli, sgombrando il terreno da molti comodi ripari e mettendomi brutalmente a contatto con un mondo inconciliabile. Credo che per la maggior parte dei miei coetanei questo passaggio sia stato naturale. La corsa verso la politica è un fenomeno che ho constatato in molti dei migliori, simile a quello che avvenne in Germania quando si esaurì l'ultima generazione romantica. Fenomeni di questo genere si riproducono ogni volta che la politica cessa di essere ordinaria amministrazione e impegna tutte le forze di una società per salvarla da una grave malattia, per rispondere a un estremo pericolo. Una società moderna si basa su una grande varietà di specificazioni, ma può sussistere soltanto se conserva la possibilità di abolirle a un certo momento, per sacrificare tutto a un'unica esigenza rivoluzionaria. È questo il senso morale, non tecnico, della mobilitazione. Una gioventù che non si conserva disponibile, che si perde completamente nelle varie tecniche. È compromessa. A un certo momento gli intellettuali devono essere capaci di trasferire la loro esperienza sul terreno dell'utilità comune. Ciascuno deve sapere prendere il suo posto in una organizzazione di combattimento. Questo vale soprattutto per l'Italia. Parlo dell'Italia non perché mi stia più a cuore della Germania o dell'America, ma perché gli italiani sono la parte del genere umano con cui mi trovo naturalmente a contatto, su cui posso agire più facilmente. Gli italiani sono un popolo fiacco, profondamente corrotto dalla sua storia recente, sempre sul punto di cedere a una viltà o a una debolezza. Ma essi continuano a esprimere minoranze rivoluzionarie di prim'ordine, filosofi e operai che sono all'avanguardia d'Europa. L'Italia è nata dal pensiero di pochi intellettuali. Il risorgimento unico episodio della nostra storia politica è stato lo sforzo di altre minoranze per restituire all'Europa un popolo di africani e di levantini. Ecco, qui Pintor cade in quell'atteggiamento culturale che si chiama orientalismo, una forma di razzismo per cui gli orientali o gli africani sarebbero irrazionali, decadenti, effemminati. Edward Said diceva che il confronto con questi stereotipi sull'Oriente è servito all'Occidente per darsi un'identità per contrasto. E infatti questa identità europea degli italiani nel discorso di Pintor è costruita per contrasto con africani e levantini. Però non c'è bisogno di sottoscrivere il suo razzismo. Forse bisogna essere comprensivi sotto il fascismo cennato e non è un retaggio culturale facile di cui liberarsi. Comunque non c'è bisogno di sottoscriverlo, dico, per accettare il discorso generale. Questa Italia, generalmente vista come fiacca, come corrotta, in realtà sul piano delle lotte sociali e culturali, produce avanguardie di prim'ordine, ammirate a livello internazionale. Noi questo tendiamo a dimenticarlo, ci ricordiamo soltanto il lato fiacco e poi ci costruiamo con l'immagine dell'italiano che è sempre pronto a saltare sul carro del vincitore, cosa del genere. Oggi, in nessuna nazione civile, il distacco fra le possibilità vitali e la condizione attuale è così grande. Tocca a noi di colmare questo distacco e di dichiarare lo stato d'emergenza. Musicisti e scrittori dobbiamo rinunciare ai nostri privilegi per contribuire alla liberazione di tutti. Contrariamente a quanto afferma una frase celebre, le rivoluzioni ne riescono quando le preparano i poeti e i pittori, purché i poeti e i pittori sappiano quale deve essere la loro parte. Vent'anni fa la confusione dominante doveva far prendere sul serio l'impresa di fiume. Oggi sono riaperte agli italiani tutte le possibilità del risorgimento. Nessun gesto è inutile, purché non sia fine a se stesso. Quanto a me ti assicuro che l'idea di andare a fare il partigiano in questa stagione mi diverte pochissimo. Non ho mai apprezzato come ora i pregi della vita civile e ho coscienza di essere un ottimo traduttore e un buon diplomatico, ma secondo ogni probabilità un mediocre partigiano. Tuttavia è l'unica possibilità aperta e la colgo. Se non dovessi tornare, non mostratevi inconsolabili. Una delle poche certezze acquisite nella mia esperienza è che non ci sono individui sostituibili e perdite irreparabili. Un uomo vivo trova sempre ragioni sufficienti di gioia negli altri uomini vivi e tu che sei giovane e vitale hai il dovere di lasciare che i morti seppelliscano i morti. Anche per questo ho scritto a te e ho parlato di cose che forse ti sembrano ora meno evidenti ma che in definitiva contano più delle altre. Mi sarebbe stato difficile rivolgere la stessa esortazione alla mamma e agli zii e il pensiero della loro angoscia è la più grave preoccupazione che abbia in questo momento. Non posso fermarmi su una difficile materia sentimentale ma voglio che conoscano la mia gratitudine, il loro affetto e la loro presenza. sono stati uno dei fattori positivi principali nella mia vita. Un'altra grande ragione di felicità è stata l'amicizia, la possibilità di vincere la solitudine istituendo sinceri rapporti fra gli uomini, gli amici che mi sono stati più vicini, Kamenetsky, Balbo, qualcuna delle ragazze che ho amato, dividono con voi questi sereni pensieri e mi assicurano di non avere trascorso inutilmente questi anni di giovinezza. Già, i me. Ecco, noi viviamo appunto un'epoca di grave malattia. Come dice lui, la società deve rispondere a un estremo pericolo che lo intende in senso metaforico la malattia è il fascismo ma per noi è una grave malattia alla lettera. Però c'è anche quella malattia di cui parla lui. E qual è la risposta che trova? Mobilitazione. E infatti lui si muove, fisicamente passa un confine, non solo una mobilitazione politica, proprio un'avventura. è necessario non fare la comoda guerriglia psicologica, ma metterci dentro il proprio corpo. ma la mobilitazione ha senso perché è il modo di non perdere la visione d'insieme, non concentrarci troppo sulle specifiche tecniche di ciascuno di noi. avventura che per lui va male. Passa un territorio abbastanza libero dai tedeschi per quello che si è ricostruito, ma mette il piede su una mina e salta per aria. Ci sarà qualcosa di metaforico in questo terrenominato, ma il messaggio è chiaro, non c'è alternativa alla mobilitazione, anche per chi sarebbe stato migliore come traduttore che come partigiano. Il mio augurio per me stesso e per tutte e tutti noi è quello di essere noi a dichiarare, come lui dice, lo stato d'emergenza, che non è l'emergenza del virus, quello è solo il punto di partenza ed è stato dichiarato molto tempo fa. L'emergenza della nostra stanchezza, del nostro concentrarci sulla nostra tecnica particolare, del farci rubare molte cose quasi senza accorgercene, perché siamo concentrati su altro, superiamo tutto questo, passiamo questo maledetto campo minato. Questo era Jaime Pintor, intitolata semplicemente l'ultima lettera tratta da Il Sangue d'Europa, che è una raccolta degli scritti di Pintor tra il 39 e il 43, pubblicata da Einaudi. Come sempre vi chiedo di darmi un feedback, se avete voglia di altre condivisioni letterarie, iscrivetevi al canale, lasciatemi un commento, mandatemi un messaggio privato se avete il mio numero. La lettera ha anche un post scriptum, c'era un bigliettino che diceva «Cara mamma, aggiungo l'ultimo momento un abbraccio particolarmente affettuoso per te, per Silvia e per Antonietta. Jaime». «Cara mamma, sono